Buongiorno Cesare, buongiorno Rosario, oggi siamo pronti prima dai, le cofanelle, le cofanelle, chi è lui? Io sono Frasca, sono venuto dalle Marche a posto per te, e vai Frasca! Mi ha sbagliato un fratello Ghi Baffetti! Sei un cantautore? Sì, sì. Allora, pubblicizziamo Frasca, scusa lo sa, tuo fratello Ghi Baffetti! Con il cd è arrivato, dammi il cd, dai! Come la primavera, è uscito il 21 marzo. Ah, che direi? Chi le hai portati? Eh, dai, no, io le porto! Frasca! Allora, cioè, ci sarà una sorpresa oggi, ma non vi possiamo dire chi è la sorpresa di oggi alle Dicole! Esatto! Eh, ma si sente la voce! Esatto! Esatto! È un cantautore che viene da Bologna, apposta, come tu, dalle Marche a Bologna, ho portato un cd! Quanti le hai portati? Fa vedere! Non si vede! Non si può vedere chi è! Allora, intanto abbiamo, ragazzi, con noi Luca De Gennaro! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Ma che nessuno conoscono, però Luca De Gennaro non conosce Luca De Gennaro! Ma chi è? Perché voi non frequentate la musica! Non sapete chi è! Lui è un grande dj! Tu puoi studiare dj? Cioè, com'è quello che so fare? Eh, dj! Ok, se tu hai un video e lo vuoi mandare su NTV, devi parlare con lui! Tu ti spieghi! Frasca! Hai capito? Dopo ne ho uno anche per lui! No, il cd non lo devi dare a me, lo devi dare a De Gennaro! De Gennaro, questo è il cantautore! Frasca! Eh? Ho fatto anche un videoclip! Frasca! Com'è il videoclip? Eh, è bellissimo! Non lo mandiamo! Vabbè, poi ci fai sentire qualcosa! Guarda, lì è arrivata una copertina, te la ricordi quella? Guarda quella, guarda quella! Là, là, là! La vedi in lontananza! Ma chi è? Nuovamente falso! No, sono io ragazzi, ho fatto 200.000 copi! Come è fatto che... C'è un sacco di dischi di Mannarino! Ah, non ho mandato! I per Fiorello! Ah, no, Mannarino! È tu, è tu, è tu! Mannarino, poi me lo prendo! Mannarino è un mito, anzi, deve venire qui da noi! Ma la sorpresa è qui! Vi faccio vedere solo il petto, eh! La fai io dentro! Guarda, l'abbigliamento e la mano si vede! Il cucino di Albano! E la risata! La cellino San Marco! Ho visto, non ho capito! Non si vede! Io sono venuto a portarti, a portare un uccidio! Ah, mi ha portato un cd! Però, quiz, chi è? Chi è? Sei inquadrato! Regaliamo qualcosa! Attenzione! Regaliamo un cd chi ci dovina! Com'è? Senza dire chi è? Com'è? Bello o brutto? Bello! Ma è bravissimo! Bravissimo! Ma che cazzone ha fatto? Eh, io compro tutti i cd! Sì, va bene! Ma non dice ne una! Ma non dice ne una! Dimmene una! Dicene una! Amma Chiara! Andiamo sul mondo! Sono un ragazzo fortunato! Sì, ti sa tu, Teresa! Oh, ragazzi! Ah, non vivo più senza te! Anche se, anche se, con la vacanza in Salento prendo! Sono le sei e mezza! Sta bene però, ti vedo bene!